Ma quanto mi sono mancate le animazioni di Brawl Stars, me le avete richieste in tantissimi, ci ho fatto un solo video un po' di mesi fa E che cosa sono le animazioni? Così, giusto per farvi capire per i nuovi arrivati nel canale, sono delle animazioni di Brawl Stars Sì, diciamo che non sono molto bravo con le spiegazioni, facciamo che iniziamo direttamente? Ah, e mi raccomando, ricorda di lasciare un bel mi piace Un saluto a Vlash Shetjenfni, spero di aver letto bene il tuo nome, grazie mille per l'abbonamento leggendario, sei un pro Incominciamo con la gara di atletica dei Brawler di Brawl Stars, abbiamo Bull, 8 bit, e non vedo gli altri, Dynamike E il primo è quello che ho già detto prima, Bull con la lingua di fuori, che strategia è quella? Scusate, 3, 2, 1, si parte Attenzione, secondo voi chi vince? Secondo me vince 8 bit raga, e il primo mette lo sprint Bull adesso usa la super e parte raga, lo sapevo, lo sapevo, la super del torero E Dynamike e 8 bit che fanno? Non sono scarsi, io ti favo per 8 bit ragazzi Corri Dynamike, sprigati La bomba, usa la tattica della bomba, mettitela Ah no, pensavo se la mettessi sotto i piedi per saltare più velocemente, invece mi sa che ha fregato 8 bit Ma dai, ma poverino Aspetta, ma questo lo fa andare più veloce così, guardate Guardate che tattica No, non era quello che pensavo E il primo è ancora primo Però arriva Bull, arriva Bull e il torero Bull e il torero, attenzione Vediamo che succede E il primo contro Bull Mi sa che stanno proprio pari Eh ma non vale così Nelle gare di atletica non vale darsi le cornate da toro, dai E poi c'è Dynamike C'è Dynamike che gli mette la bomba in mano Oddio Che figata Ma questa animazione è bellissima Trovate i link in descrizione comunque E Dynamike mi sa che è al primo posto E passeggia pure Cioè lui esulta così Ma guardate che adesso arriva 8 bit ragazzi Eccolo Io credo in te 8 bit Metti il turbo Che cosa sta per fare? Che cosa sta per fare? È ritornato normale E si è boostato Ha preso un'energia incredibile Eccolo Ragazzi vi giuro Vi giuro è la prima volta che guardo questa animazione Ve lo giuro su quello che volete Ha vinto davvero 8 bit Io ho tifato per 8 bit Perché è il brawler più lento tra tutti questi Nel gioco normale no? Per questo che ho tifato per lui Ok vediamo cosa succede qui Abbiamo una Jessie che deve attraversare Attenzione che stiamo giocando A Raffa Gemme che c'è il treno Ah no c'è Carl Ecco mi pareva strano Che si Sempre più furbo di tutti Carl È davvero fantastico anche in questa animazione Cosa faranno? Ah si scopre una storia d'amore tra Jessie e Carl Va bene E poi c'è Mamma mia quanto è brutta Shelly Non mi piace per niente Vediamo cosa fa Shelly saluta i suoi amichetti Ah hai capito che figo Corvo con quel ciuffetto rosso Non so perché ho detto Corvo Volevo dire Colt E niente Si scoprono le prime storie d'amore su Brawl Stars Ma me lo potevate dire prima E poi c'è Carl Che ha costruito insieme a Jessie altri vagonate Così stanno anche più comodi Bravi ragazzi Si che siete amici per la pelle voi Guarda che fanno la gara questi due adesso eh Oh Gli fanno mangiare anche la polvere dai Ma povero Carl Colt Non fare lo sbruffone Ma dai Non ci posso credere Gli dovete dare una bella sezione adesso voi due eh Vi dovete dare davvero una bella lezione Guardali sti sbruffoni Che cosa fa? Che arma è quella? Ah è la sua arma Ma non spara razzi quell'arma Scusate Oh oh Guardate Wow Boom Beccato Gli sta proprio bene Occhio per occhio Dente per dente Macchina distrutta Brava Jessie E ora si condono il viaggio ancora una volta Vediamo che cosa succederà adesso Si La gara alla fine è stata vinta da Carl Ciao ciao Saltano pure i sedili Haha Vediamo qual è la prossima animazione Uh Pam e Penny Vediamo cosa combinano Penny sembra la figlia comunque Guarda quanto sono felici insieme Sembrano padre e figlia Ma probabilmente sono amiche Per la pelle in realtà I pipistrelli Mortis Che cosa ci fa Mortis in città? Ma poverini dai Stanno portando via Penny No Pam devi fare qualcosa Con la tua aspirapolvere adesso eh Pam mi raccomando Stai attenta Usa l'aspirapolvere Sbrigati Non sa come fare Io il consiglio te l'ho dato amica Non piangere dai Io il consiglio te l'ho dato Sei tu che non mi hai voluto ascoltare Lo sapevo che c'entrava qualcosa Il malefico Mortis No povera Penny Ma guardate È una povera bambina In difesa Ma perchè ha uno smartphone Mortis Scusate ma che senso C'ha tutto questo? Sta chiamando Pam Gli ha mandato la foto No Così la fa arrabbiare ancora di più Vediamo che cosa succede Raga Ha buttato il telefono Ora Pam lo deve salvare E sono sicuro Che la sua aspirapolvere Farà la differenza Raga me lo sento Non ci posso far niente Vediamo un pochino Le monete d'oro Ah Gli ha chiesto un risarcimento Vuole i soldi Mortis Ho capito Soldi per comprarsi una nuova palla d'oro Ne sono sicuro Credo proprio che il motivo sia questo Guarda che c'ha dietro l'aspirapolvere ragazzi Io ve l'avevo detto eh Non so perché sto riuscendo a prevedere tutte quante le storie I soldi glieli dà Glieli lancia a terra Vediamo che cosa fa Mortis è felice ma Eccola Eccola l'aspirapolvere Ok no Non è l'effetto Questo è un lanciafiamme Non è un aspirapolvere Ehi Vabbè Comunque L'importante è che abbia salvato la sua amichetta Penny Guardate che carine Secondo me Mortis non è stato battuto però Guardate che adesso ritorna No Si è salvato Ha vinto Pam Bravissima Prossima animazione per noi Abbiamo Stecca E Tara Oh Tara Adesso non posso dire più odio Tara Perché l'ho trovata finalmente Mi mancano Eugenio e Sandy Vediamo che cosa fanno Carta Ok Principessa Ti vedo un po' maluccio eh Mmm Stecca è un rubacuori mi sa Stava prima con Tara E adesso sta con la principessa Guardate Non posso Non vuole giocare a carte Ma come principessa Te devi giocare a carte Vediamo che cosa succede Vabbè vi devo dire la verità Questa al momento è l'animazione Che sto capendo di meno So solo che Stecca si è innamorato di Praticamente Tutte le Brawleresse Eh ci mancava pure rosa Guarda Guarda quanto ci scommetti Che adesso Che adesso Stecca ad occhia Ad occhia rosa Gli va presso eh Guardate Guardate che adesso La raggiunge subito subito Eccolo eh Lo sento E' in arrivo ragazzi E' in arrivo Stecca Me lo sento Vediamo un po' che fa Anzi no Non è vero Non è vero E' la principessa In realtà che è arrabbiata Con Stecca E Tara è l'unica che Ah Utilizza la sua abilità Per far stordire Stecca E farlo innamorare Ma dai Ma questa strategia Non è giusta Dovete fare qualcosa voi Ehi E come sempre Arriva Dynamike Giustamente Dynamike è il protagonista Di tutto questa volta Ma non puoi Far esplodere Tara Amica No no Non ci voglio credere ragazzi Non ci voglio credere Che cosa hanno combinato Ah Ha fatto scomparire le carte Bravissima Almeno adesso Stecca capisce tutto Guarda E Tara non può più Ipnotizzarlo Missione riuscita E questa volta Invece abbiamo Bibi Fatta Senza naso Perché non ha naso La povera Bibi E Jesse Eee Come impenna Jesse Ragazzi Ma perché Perché c'è C'è Bo Versione robot Che figo però Questa è la skin Che gli si addice Di più Praticamente Sto trattore Vediamo che cosa combina Gli si è bloccato Vediamo un po' Qual è la causa Del suo Trattore rotto Ma povere Non possono passare Ma lui Ha il trattore rotto Che ci può fare Che ne sta dicendo Di tutti i colori Bibi eh Secondo me fanno Si fanno male Queste adesso Io ve lo dico Secondo me Ti fanno davvero male Questi qua Ecco la liga Che arriva con la mazza Bibi No Non farlo Non farlo Non fare arrabbiare Bo eh No vabbè Non ci credo Gli sta spaccando Il trattore Che poi una ruspa Non è un trattore Non so perché sto dicendo Trattore Ma questi sono dettagli No ci si mette pure Jesse Con l'arma Lascialo stare Ma che ha fatto di male Sto povero Bo Eccolo lì Lo sapevo io Che adesso iniziamo A combattere Ve lo dicevo Che sarebbe finita male Vai Bo Devi sapere che io Ti fò per te Questa volta Non so perché Ma non ti fò Per la mia amata Bibi Vediamo cosa fa Stanno studiando Una strategia insieme E che cosa starete mai studiando Di così malvagio Don't mess with Jess Vediamo cosa fa Attenzione no La stanno colpendo in due Guarda Bibi Sta facendo il giro da dietro Gli lancia la gomma Eh la gomma da masticare È cattivissima Eh ragazzi La gomma da masticare È cattivissima Lo sapevo io Eccolo qui Anche Bo È stato stecchito In questa animazione Dovremmo avere come Protagonista Proprio lei Sandy Che poi mi avete detto Tutti quanti che è maschio Quindi proprio lui Sandy Ma non so perché a me Sembra femmina ragazzi Non ci posso far nulla Vediamo cosa fa Conquista la stella Ma la riperde E c'è Baril Che non era mai Non era mai capitato Dentro questa sfida Eh Baril l'ha ucciso La povera Sandy Ah guardate quanto è carino Il brawler preferito Di cinnavale E poi c'è Leon Uh tutti i brawler Mai visti prima Per adesso Che mi sa Che fa fuori Baril Questa è una reazione A catena praticamente Vedete Baril fa fuori Sandy Leon fa fuori Baril Chi c'è nel cespuglio Ehi È il primo Vai il primo Vai il primo Distruggi Shelly Eccolo 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 che prepara Al salto ragazzi Eccolo qua BOM Eh sì Ciao ciao Shelly È stato un piacere Il suo muscolo potentissimo L'ha devastata E si conquista Lui La posizione Vero Eh sì Shelly è ufficialmente Fuori dai giochi Molto molto carina Anche questa animazione Aspetta no È ancora viva È ancora viva È viva E sta sparando il primo Non me lo sarei mai Aspettato questa cosa eh Eh no Hai fatto arrabbiare il primo Amica Aspetta Aspetta No Prova a lasciarla No niente Stavolta è stata fatta fuori davvero eh Eh sì Shelly scomparsa Ed il primo si becca tutte quante le stelle Tutte le stelle che si sono accumulate dagli altri brawler Spaventoso Ha solo uno di vita però Attento Devi nasconderti Ora Guardate che adesso spunta Spike Me lo sento Ora spunta Spike raga No Spunta di nuovo Sandy Che Che mentre dormiva ha ucciso il primo E ha riconquistato tutte le stelle Ma 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 Stelle Ma dai Questa vittoria è stata davvero in attesa eh Let's go con un'altra animazione Qui ci sono davvero tanti brawler per poterli erencare So solo che c'è Dynamike versione Pizzaiolo Italiano Mozzarella Pomodoro Vediamo che cosa fa Il primo Oh oh Questa bomba farà molto male Sì praticamente è come se Dynamike si fosse stecchito da solo Bene Cotto a puntino direi E anche il primo è stato fatto fuori Vediamo Shelly che cosa Che combattimento è questo ragazzi Non ci sto capendo nulla Abbiamo Bull VS VS Shelly Shelly è stata colpita Ma non è ancora morta Vediamo che cosa succede Shelly agli occhi infogati Mai far arrabbiare Shelly Ecco qua infatti ve l'avevo detto ragazzi Bull è stato letteralmente spazzato via Scappate tutti amici Scappate Oh oh Bene Mi sa che Tic e E Barley non avranno tantissima vita eh No no Scappate via Bombardino vai via Eh no Mi sa che sono fregati I poveri noob della modalità sopravvivenza Sono sempre Aspetta no Aspetta Stanno arrivando altre squadre La squadra è stata chiusa Tic Tic reagisce Tic reagisce raga Oh 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 Sta sparando letteralmente bombette all'infinito Ah 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 Che faccia soddisfatta che ha Tic Guardate ma questa è una pioggia di bombe Ha fatto fuori tutti Trane loro che sono ora spawnati adesso Non si sa come Guarda Ecco niente Spawnati E mi sa ha fatti fuori di nuovo Eh già Vabbè È stato un piacere diciamo eh Sì sì E niente ragazzi Mi sa che i vincitori saranno proprio loro adesso eh Troppo troppo carina questa animazione Breve ma intensa Tutto davvero troppo figo Mi sono divertito tantissimo Però adesso è il vostro momento Condividete il video ad almeno un vostro amico Se volete una nuova reazione alle animazioni più belle di Bruce Stars Link in descrizione In questo momento trovate sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto Quindi non ve ne potete perdere neanche uno se siete dei veri iscritti di Matiz Cliccate su quello che volete Noi ci vediamo in quel video Invece in basso a sinistra Trovate il link per abbonarvi al canale Abbonamento epico e leggendario Per entrare nel mio club ufficiale MZ Premium Degli abbonati Grazie a tutti Instagram in descrizione E anche il merchandising Ciao